di Villanova-Mondolini, sembrerebbe un po' strano la cosa. Soltanto locale ma anche fuori dai nostri territori, lo dimostra la partecipazione davvero molto ampia sabato e domenico in occasione dello street food che è stata la novità anche direi più azzeccata e ringraziamo Villanova-Viva per averla proposta di questa Fiera della Dolorata 2018. Di fianco a questa chiaramente le tante iniziative proposte dalla confraternita della Trip e della Rustia che invitiamo a salire sul palco, per cui Davide vi chiederei solo di andare a chiamare i confratelli della Trippa di venire su anche per la successiva premiazione, confraternita che si conferma la nostra associazione turistica di riferimento quindi siamo molto grati a loro per i tanti appuntamenti che hanno proposto, in particolare Mangiar Vicino venerdì sera nel cortile del municipio e poi la collaborazione che hanno garantito al Comune nell'organizzazione della prima serata dei giovani, giovedì sera nell'area commerciale dell'Annunziata. Quindi due momenti che parallelamente alla rassegna zootecnica qualificano questa Fiera e soprattutto ne delinano il percorso per il futuro. Sei fermo lì?